Salve a tutti signori, bentrovati in questo nuovissimo video. Abbiamo una notizia veramente di stamane. Una scossa di terremoto è stata registrata in Grecia, nel Mar Ionio, dove l'evento sismico ha avuto il suo epicentro a largo dell'isola di Leucade, nella costa ovest a circa 30 km dalla terraferma. È stato avvertito anche a sud Italia, ecco perché ha fatto molto notizia, anzi in particolare in Calabria e in Puglia, in varie zone della Puglia. Secondo le rivelazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano INGUE Roma e del Servizio di Monitoraggio Geologico Statunitense, la scossa ha avuto una magnitudo, quindi la potenza della scossa è stata 4.7, abbastanza forte. È stata registrata stamattina, poco prima delle 7, a una profondità di circa 17 km e durante il cuore della notte era stata in realtà preceduta da una scossa di lieve entità, che già ne preannunciava quindi quella poi più grave. Al momento non si hanno notizie di danni fortunatamente a persone o cose e comunque lo scorso 24 agosto, quindi una settimana fa circa nel versante opposto della Grecia, era stata rivelata una scossa simile a circa 90 km di distanza dall'isola di Scarpanto. Era stata la magnitudo anch'essa abbastanza potente, 4.5 per l'esattezza, e anche in quel caso, pur essendo stato avvertito in maniera distinta, non aveva causato danni a persone o cose. Non si sa se esattamente centrino qualcosa, ma ci sono state anche altre due piccole scosse, piccole nel senso di intensità inferiore, quindi 3.3 e 3.5, nelle zone della Sicilia. Questo è tutto signori per questa piccola news, vi ringrazio per l'ascolto e al prossimo video.